Lunedì 20 gennaio 2020, ventesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La Chiesa ricorda San Sebastiano. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Sebastiano. Il nome deriva dal greco sabastos e significa degno di venerazione, di rispetto. Sebastiano ha una personalità forte, molto comunicativa ed empatica. La sua sicurezza lo porta spesso ad essere un vero leader. Accadde oggi. Il 20 gennaio del 1892, a Springfield, in Massachusetts, viene disputata la prima partita ufficiale di pallacanestro. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 20 gennaio ricordiamo il regista Federico Fellini e il pilota di motociclismo Marco Simoncelli. La citazione del giorno. Se vuoi diventare un vero cercatore della verità, almeno una volta nella tua vita devi dubitare, il più profondamente possibile, di tutte le cose. Cartesio. Dice il saggio. La luce è più veloce del suono. Per questo alcuni sembrano brillante fino a quando non parlano. Il bel paese. A Orvieto c'è un capolavoro dell'ingegneria rinascimentale. È il Pozzo di San Patrizio, realizzato nel XVI secolo per garantire acqua ai cittadini in ogni momento dell'anno, soprattutto in caso di calamità o di prolungato attacco. Il Pozzo si trova nel centro di Orvieto e fu fatto realizzare da Papa Clemente VII, traendo ispirazione dall'omonima grotta irlandese conosciuta oggi come Purgatorio di San Patrizio. L'opera, unica nel suo genere, proprio come la grotta irlandese, dovrebbe rappresentare i gironi dell'inferno scendendo fino a 50 metri. Si può raggiungere il fondo del Pozzo attraverso una lunga scala elicoidale di ben 248 gradini. Si tratta di una costruzione veramente unica ed è una delle cose più belle da visitare per chi viaggia in Umbria.